Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Lutto nel mondo del cinema, è morto il noto attore. Aveva 67 anni ed era malato da tempo. Ad annunciare la sua scomparsa ci ha pensato la sua famiglia dal suo account ufficiale Twitter. Il suo cuore ha smesso di battere dopo che lo stesso attore ha subito un'anomalia cardiaca dal nome tachicardia ventricolare. Soffriva della distrofia miotonica di tipo secondo. Tanto è vero che il suo corpo, nell'ultimo periodo, si era irrigidito parecchio. Nella sua carriera cinematografica è stato anche un apprezzato doppiatore. Chi è il noto attore che ci ha lasciato in queste ore? Viene ricordato per aver interpretato il ruolo del simpatico preside nel film Piccola Peste, dove veniva preso di mira dal piccolo Junior Reali. Aveva interpretato anche una piccola parte nel film Senti chi parla 2, dove era un insegnante di un asilo. Ci lascia l'attore Gilbert Gottfried. Ad annunciare la sua scomparsa ci ha pensato la sua famiglia dal suo account ufficiale Twitter. Questo il messaggio postato dai suoi parenti. Siamo distrutti nell'annunciare la scomparsa del nostro amato, avvenuta dopo una lunga malattia. Anche se oggi è un giorno triste per tutti noi, per favore continuate a ridere il più forte possibile in onore di Gilbert. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie! 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 Grazie!